Con la nomina a direttore generale della RAI di Antonio Campodallorto e con la riforma appena approvata dal Parlamento, a Viale Mazzini stanno cambiando molte cose. La TV pubblica sta cercando di svecchiarsi e stare al passo coi tempi e Antonio Campodallorto starebbe pensando di riportare in RAI personaggi e personalità che negli anni sono emigrate altrove. Tra queste, a quanto pare, potrebbe esserci Paolo Bonolis, il quale proprio recentemente aveva detto in un'intervista che ad oggi sarebbe pronto e contento di dedicarsi al Festival di Sanremo. Dopo il 2009 mi hanno chiesto di rifare Sanremo, ha spiegato il presentatore di Avanti Un'altro, ma ha risposto no perché non avevo le idee giuste. Adesso il Festival, aggiunge, è nelle mani di un professionista che certamente farà bene, diciamo però che se dovessero richiedermelo direi di sì. Vedremo allora Paolo Bonolis in RAI? Secondo alcune voci di corridoio, fanno sapere sul libro quotidiano, il rapporto di Bonolis con Mediaset sarebbe ormai logoro, ma pare d'altro canto che Dallorto non sia del tutto convinto di riportarlo a Viale Mazzini. In qualunque modo siano le cose, di certo c'è che il Festival di Sanremo 2016 è affidato a Carlo Conti, che Bonolis sta lavorando all'ultima edizione di Ciao Darwin e che, avanti un altro, continua a dare ottimi risultati.